La struttura commissariale della Sanità per la Regione Abruzzo ha autorizzato 60 nuovi posti letto da destinare a residenza protetta per anziani non autosufficienti nei presidi di Atessa, Casoli e Gissi. Il decreto è stato già predisposto e nei prossimi giorni sarà notificato alla ASL Lanciano Vastocchieti per i successivi adempimenti. Saranno attivati 20 posti letto in ciascuna struttura, prevedendo anche la riconversione di alcuni presidi per garantire la copertura dei fabbisogni rimasti insoddisfatti. La carenza di residenze per anziani non autosufficienti, sottolinea l'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci, rappresenta uno degli aspetti su cui si sta concentrando l'azione del Governo regionale. In Abruzzo infatti ha oggi la dotazione di posti letto dedicati e pari a 5,56 ogni mille abitanti a fronte di un valore minimo riferito da ILEA di 10. Da qui la necessità di prevedere un aumento consistente per centrare l'obiettivo del fabbisogno stimato in 2.708 posti letto. I 60 posti previsti ad Atessa, Casoli e Gissi, si vanno ad aggiungere ad altri 20 già attivati nel presidio sanitario di Guardia Grele. Per il momento, continua Paolucci, la regione si sta occupando delle strutture pubbliche, mentre successivamente saranno valutate anche le proposte presentate dai privati e già trasmesse alle ASL della regione Abruzzo, così da soddisfare interamente il fabbisogno registrato sul territorio.